Gara difficile, ci impaglio tantissimo e dobbiamo dare il massimo perché questi punti sono vitali. Che settimana è stata e che reazione hai visto anche da un punto di vista mentale della squadra dopo la partita di domenica? Sicuramente delusione per il mancato risultato pur avendo creato tante situazioni ma abbiamo perso per demerito nostro, per errori evitabili. Dopodiché la squadra ha cominciato subito a lavorare, ci siamo fatti una bella chiacchierata e abbiamo lavorato per arrivare pronti domenica. Che atteggiamento servirà per uscire con dei punti domenica? Un atteggiamento di chi ha voglia di lottare su ogni pallone e di vincere ogni duello. Parliamo della Rimini in conclusione, una squadra che è in zona playoff, che in casa ha vinto tre partite consecutive segnando 11 gol nelle ultime tre. Una squadra fisica, una squadra che ha molta qualità davanti e soprattutto negli esterni con Morra che è un ex Entella. e che quindi in casa sfrutta molto questa fase offensiva con soprattutto quei due esterni che sono abili in uno contro uno. Dobbiamo farci trovare pronti, abbiamo lavorato, stiamo lavorando, abbiamo ancora qualche allenamento per prepararci ancora meglio.